81 lavoratori in cassa integrazione da subito, gli altri 80 forse già dalla primavera. Doccia ghiacciata per i sindacati stamani all'incontro con la Toto Costruzioni. Al centro la riepertura auspicata di un cantiere fermo da quasi un anno, ma le notizie che arrivano sono pessime. Stamattina la Toto Costruzioni, dopo un anno di cassa integrazione, ci ha comunicato in modo anche molto freddo che dal primo febbraio procederà all'apertura della mobilità per licenziare la totalità dei lavoratori che sono occupati nel cantiere di La Spezia. Siamo preoccupati perché non stiamo parlando di un lavoro che non c'è, stiamo parlando di un lavoro che c'è, ma siamo convinti che ci possa essere lo spazio per fare tutte quelle infrastrutture che non riguardano i siti dove sia l'azienda che Anas sostiene che ci siano dei problemi. Il cantiere è fermo dallo scorso gennaio, ma fu avviata la cassa integrazione a causa della richiesta da parte della ditta ad Anas per alcune varianti strutturali. L'accordo economico a fine 2017 sembrava cosa fatta, anche con l'arrivo di nuove risorse statali. La TOT aveva richiesto delle varianti che sono state chiaramente esaminate da Anas e mentre in un primo momento ci sono state delle diatribe da risolvere, piano piano poi la cosa sembrava essersi messa a posto. Sembrerebbe che ci siano dei soldi messi a disposizione dallo Stato e in Commissione Bilancio il 20 dicembre sembrava essersi sbloccato 20 milioni, 10 nel 2019 e 10 nel 2020, che sembravano potessero rivitalizzare il cantiere. Tant'è vero che sembrava imminente la ripresa. Siamo stati poi freddati dai vertici di TOTO che ci hanno detto sì, la ripresa ci sarà, ma non imminente. A questo punto noi ci chiediamo dove sia il problema. Non firmeranno i licenziamenti e soprattutto le organizzazioni sindacali annunciano battaglia e scioperi. In una provincia in cui tornano a ribadire troppi cantieri continuano ad essere bloccati. A questo punto quali azioni intendete mettere in campo? Noi sicuramente lunedì abbiamo già in programma con i lavoratori di fare un'assemblea. Quindi decideremo insieme a loro le azioni di lotta da fare che sicuramente non saranno poca roba perché le intenzioni sono serie perché comunque quando si tratta che i lavoratori rimangano a casa tra virgolette avendo un lavoro in un cantiere che non è né chiuso né finito quindi è solo una sospensione per trovare delle soluzioni dal punto di vista sia tecnico che economico tra l'azienda e Anas, il committente è evidente che i lavoratori sono abbastanza arrabbiati. Grazie.